Adesso l'ultima unità didattica di questo modulo sarà quella certamente più corposa perché parliamo appunto del principio di risoluzione che dà il nome a tutto questo modulo che sta alla base della programmazione logica. Il principio di risoluzione è stato annunciato, ripeto, nel 65, lo vediamo per passi, prima lo vediamo applicato a clausole ground, è stato applicato a clausole inizialmente. Due letterari ground stigono complementari se uno è un atomo e l'altro è la negazione dello stesso atomo. Quindi questo è il concetto di complementarità di due atomi. Il principio di risoluzione sostanzialmente dice questo, date siano C1 e C2, due clausole, queste clausole genitrici, se esiste un letterale L1 in C1 che risulti complementare ad un letterale L2 in C2, allora il risolvente di C1 e C2 è la clausola ottenuta dalla disgiunzione di tutti i letterali di C1 e C2 meno la coppia di letterali su cui si è risolto. Per esempio, supponiamo di avere due clausole, not P, che in notazione speciale sarebbe questo, ricordo che appunto questo è un letterale negativo, quindi va a destra, per esempio l'implicazione rovesciato, e P, che invece andrebbe a destra. Quindi abbiamo due clausole molto particolari come clausole genitrici, perché sono entrambe composte da un unico letterale, uno negato e uno positivo, sono ground, in realtà più che ground queste sarebbero letterali proposizionali, e sono tali per cui i due letterali sono effettivamente complementari, perché uno è la negazione dell'altro. Bene, allora io posso risolvere le due clausole genitrici producendo un figlio, quindi un risolvente che deriva dalle due genitrici, che altro non è che la disgiunzione di tutti i letterali della prima, ma la prima c'era un solo letterale, meno la disgiunzione, più la disgiunzione, in disgiunzione con tutti i letterali della seconda, che però aveva un solo letterale, meno i due su cui si è risolto, che erano gli unici due, presenti in entrambe, e quindi abbiamo anche il risolvente e la clausola vuota. E questo che vediamo, il primo esempio che vediamo, è un esempio di straordinaria importanza, che ti illustra come proprio la clausola vuota deriva da una contraddizione, quindi dall'affermazione che P è falso e dall'affermazione che P è vero, che ovviamente insieme costituiscono una contraddizione, deriva l'assurdo, la clausola vuota rappresenta l'assurdo. Perché non l'ho detto, ma in pratica la risoluzione verrà utilizzata nel prologue per refutazione, cioè si cercherà di utilizzare la risoluzione per provare a produrre la clausola vuota. Qualora ci si riesca, abbiamo provato che i simili clausi di partenza sono disfacibili, che come forse ricorderete dal primo modulo, è uno dei modi per provare che una formula F è conseguenza logica di altre, come vi ricordo era una dimostrazione per assurdo, cioè neghiamo la F, la uniamo alla S e proviamo che da ciò ne diria un assurdo. Come vedremo, la risoluzione verrà utilizzata in questa maniera. Vediamo altri esempi. Dalla clausola genitrice P, se niente, e dall'altra genitrice Q, se P, possiamo derivare Q, se niente. Questo in pratica, altro non è, che è l'applicazione del modus ponendo ponens. Altro esempio. Da P e R, se niente, e da Q, se P, possiamo risolvere, risolviamo su P, quindi va via P e va via P, perché P, qui compare positivo, qui compare negativo, ciò che rimane sarà R, che era positivo, insieme a Q, che era positivo, se niente. R e Q, se niente. Attenzione al penultimo esempio. Qui abbiamo P e Q, se niente, e poi abbiamo se P e Q. La tentazione che abbiamo in questi casi, in questo esempio, è quella di eliminare sia P che Q. Ma non lo possiamo fare. Non lo possiamo fare perché, mentre è vero, tornando al primo esempio, che P è la negazione di not P, per cui li eliminiamo, per il principio di risoluzione, nel risolvente, non è vero che P e Q è la negazione di, non è vero che questi due sono la negazione di questi due, perché vi ricordo che questi due sono due letterali positivi in AND. Questi due, c'è il simbolo di negazione qui davanti, ma sarebbero in OR, se mettiamo il simbolo di negazione qui davanti. Se invece mettiamo il simbolo di negazione attaccato a ciascuno di due, stanno in AND, ma NOT P AND NOT Q non è lo stesso che NOT P AND Q. quindi questi due insieme non sono la negazione di questi due, quindi non li possiamo eliminare entrambi, li possiamo eliminare uno alla volta. E quindi possiamo decidere di risolvere su P e quindi eliminare P e P e a questo punto ciò che otteniamo sarà Q se Q. Oppure possiamo decidere di eliminare Q, di eliminare Q, a questo punto otteniamo P se P e quindi se decidiamo di eliminare P abbiamo il risultato Q se Q. Se decidiamo di eliminare Q abbiamo il risultato P se P. In entrambi i casi P se P e Q se Q produciamo una tattologia. In questo caso cioè il risolvente, qualunque si scegliamo come risolvente da queste due classi genitrici avremo prodotto una tattologia che è vera sempre e quindi per definizione è conseguenza logica di qualunque cosa. L'ultimo esempio da P se Q e Q se R possiamo risolvendo su Q produrre P se R. Bene. La non lo facciamo che il risolvente è una conseguenza logica delle clausse genitrici. Questo è stato il risultato più importante di Robinson. Ovviamente il risolvente prodotto per il principio di risoluzione conserva a tutti i modelli dei genitori e quindi la risoluzione di per sé è una forma di inferenza che conserva i modelli. Detto questo generalizziamo un pochino la deduzione di C da un insieme di clausole S che cos'è? è una sequenza finita di C con 1 Ck di clausole tali che o di C con I è una clausola in S in questo caso si direbbe che è una clausola di input oppure un risolvente di clausole precedenti nella deduzione. Quindi sostanzialmente quello che era un singolo passo che abbiamo visto nella slide precedente adesso lo generalizziamo a n passi. Questa sequenzializzazione di passi di risoluzione la chiamiamo deduzione. o la deduzione si dice refutazione se l'ultima clausola è la clausola vuota. E allora abbiamo questo risultato importantissimo prima abbiamo poco fa inunciato la correttezza della risultazione cioè il fatto che la risoluzione cioè il fatto che la risoluzione preserva i modelli e adesso inunciamo la completezza e il risultato circa la completezza del procedimento di risoluzione e lo annunciamo in questa forma se S è un insieme di clausole allora S è insoddisfacibile se e solo se esiste una refutazione di S facciamo un esempio prendiamo la clausola 1 P or Q la clausola 2 Q or not P la clausola 3 P or not Q e la clausola 4 not P or not Q che le ho enunciate nella forma originaria in forma clausola sarebbero P and P e Q se niente Q se P P se Q e se P e Q allora noi possiamo provare applicare la risoluzione per esempio possiamo risolvere le prime due clausole la 1 e la 2 risolviamo su P e produciamo Q se niente possiamo risolvere la 3 e la 4 e produciamo se Q poi possiamo risolvere la 5 e la 6 indicando con 5 il precedente risolutore e con 6 il risolutore appena prodotto possiamo risolvere fra di loro questi due risolventi e produrre la clausola vuota e così facendo abbiamo sostanzialmente dimostrato che l'insieme di clausole di partenza è insoddisfacibile quindi non c'è nessuna possibile interpretazione che le renda vera tutte e 4 vale a dire che la negazione di ciascuna di esse per esempio la negazione della 1 o la negazione della 2 o la negazione della 3 o la negazione della 4 è conseguenza logica delle altre 3 questo vi ricordo non solo se quindi in pratica se l'insieme di clausole di partenza è soddisfacibile produco la clausola vuota per forza ovviamente se produco la clausola vuota insieme di clausole di partenza è insoddisfacibile dice c'era una quinta clausola e non l'hai utilizzata vabbè se c'era una quinta clausola io ho dimostrato che 4 di quelle 5 sono insoddisfacibili a maggior ragione sarà insoddisfacibile insieme delle 5 ok detto questo è capito che cos'è la risoluzione e come andiamo a utilizzare per refutazione però l'abbiamo visto per clausole ground e cerchiamo di andare a parlare adesso delle clausole non ground e quindi annunciamo il principio di risoluzione per clausole non ground per farlo dobbiamo introdurre il concetto di sostituzione una sostituzione θ ha un insieme infinito della forma vt dove ogni v è una variabile e ogni t è un termine distinto da v e le variabili v sono distinte anche fra di loro ogni coppia vt è detto legame per v θ è detta sostituzione ground se i t con i sono tutti i termini ground quindi in pratica togliamo delle variabili per metterci dei termini senza variabili e θ ancora è detta sostituzione di variabili se invece i t sono tutte variabili una espressione è un termine oppure un atomo in questo caso parliamo di espressione semplice in questi casi parliamo di espressione semplice oppure è una congiunzione o una disgiunzione di letterali allora sia θ o una sostituzione come abbiamo appena definita ed è un'espressione allora eθ ovvero l'istanza di e per mezzo di θ è l'espressione ottenuta da e rimpiazzando ogni occorrenza della variabile vi che compaia in e con il termine corrispondente ti se eθ è ground cioè non contiene variabili allora eθ è detta istanza ground di e per esempio supponiamo che l'espressione in questione sia una formula atomica p di x f di y e θ con 1 sia una sostituzione che rimpiazzi x con z e y con w allora l'istanza di e per mezzo di θ 1 sarebbe p di z f di w se andiamo a sostituire alla y la costante a abbiamo questa istanza qui se andiamo a sostituire a x g di z e y a abbiamo quest'altra e se andiamo a sostituire x la costante c e y la costante a abbiamo quest'altra quindi niente di complesso e abbiamo anche questa generalizzazione del linguaggio se s è un insieme di espressioni di n espressioni è un insieme finito e θ è una sostituzione allora sθ denota l'insieme di tutte le istanze per θ delle espressioni iniziali adesso andiamo a vedere cos'è il concetto di composizione di due sostituzioni se abbiamo una sostituzione θ che a delle variabili u sostituisca dei termini s e un'altra sostituzione γ che a delle variabili v sostituisca dei termini t la composizione θ σ di θ e σ è la sostituzione che si ottiene da questi insieme dall'insieme costituito da questi legami quelli che alle variabili u sostituiscono i termini s corrispondenti a cui però viene applicata la sostituzione σ la seconda sostituzione quindi a ui si sostituisce si composto σ eccetera fino a um a cui si sostituisce il termine sm a cui viene applicata la sostituzione σ virgola a cui si aggiunge senza letteralmente quindi senza cambiare nulla tutta la sostituzione σ tutto questo insieme di legami sarebbe la composizione di θ σ ma sarebbe perché dobbiamo ancora fare due correzioni e cioè le correzioni sono queste se abbiamo che s con i composto σ risultasse proprio nella variabile ui che vogliamo rimpiazzare allora e noi andiamo a quel punto a rimpiazzare u con i con u con i e quindi lo eliminiamo questo legame lo elimineremo però questo cade raramente cosa più importante è andiamo anche a eliminare all'interno dei legami per le variabili v vj tj tutti i legami v j tj in cui ci sia in cui la vj coincida con una delle ui quindi non può essere cioè che all'interno di una sostituzione ci sia un legame che una certa ui sostituisce un qualche cosa e poi alla stessa ui ne sostituisca un'altra e quindi in questo caso la vj il legame vj tj verrebbe eliminato per esempio nell'esempio precedente prendiamo tt1 tt2 tt2 faccia corrispondere a x z e a y w se facciamo la composizione di tt1 e tt2 abbiamo che a x dobbiamo corrispondere z a cui viene applicato tt2 z applicato tt2 non cambia niente rimane z poi a y w a cui viene applicata la tt2 tt2 sostisce a y a e quindi cosa succede che la w applicando il tt2 non cambia e quindi abbiamo yz poi però dovremmo aggiungere y a ma non lo possiamo fare perché la y introdotta a tt2 è la stessa y che aveva già sostituito tt1 e quindi la eliminiamo questo legame quindi tt1 composta tt2 è la sostituzione che a x fa corrispondere a z e a y fa corrispondere a w però se andiamo a vedere tt2 e tt1 cioè la composizione inversa abbiamo che dobbiamo fare dobbiamo far corrispondere a y a e va bene non c'è problema mi sono sbagliato a minuscolo e poi dobbiamo aggiungere la sostituzione tt1 che farebbe corrispondere a x z e infatti ce lo mettiamo e poi a y farebbe corrispondere a w ma non lo possiamo mettere perché abbiamo già un termine che a y fa corrispondere a e quindi cosa vediamo vediamo che la composizione di due sostituzioni non è simmetrica la sostituzione di identità è la sostituzione costituta all'insieme vuoto adesso andiamo a parlare del most general unifier dell'unicatore più generale prima notiamo quello che abbiamo appena visto che abbiamo detto prima che non è simmetrica la sostituzione a meno che una delle due non sia la sostituzione di identità poi se io applico ad un'espressione in sequenza prima la sostituzione teta e poi la sostituzione sigma è come se applicassi la stessa cosa che applicare all'espressione e la composizione delle due teta e sigma e poi abbiamo che se io compongo teta con sigma e il risultato lo compongo con gamma è la stessa cosa che comporre teta con la composizione di sigma e gamma fatte queste premesse andiamo a vedere che cos'è l'unificatore più generale allora si è un insieme finito di espressioni semplici una sostituzione teta è detta unificatore per s se s teta ha un solo elemento un unificatore teta per s è detto unificatore più generale per s in inglese most general unifier unificatore se per s unificatore unificatore di s esiste una sostituzione gamma tale che quest'altra sigma la si può ricavare dal most generale unifier componendolo con questa gamma facciamo un esempio supponiamo di avere l'insieme di espressioni semplici costituendo queste due formule atomiche p di f di x a e p di y f di v ci chiediamo se c'è un unificatore più unificatore innanzitutto che cosa abbiamo abbiamo che al secondo argomento c'è una costante nel primo e nel secondo c'è un simbolo di funzione ora per quanto io possa provarci non riuscirò mai a far diventare a f di v o f di v a mediante una sostituzione perché qui ne a ne f sono variabili e quindi io posso far sì che y diventi f di x assegnando a y f di x ma non posso far mai far diventare il secondo argomento di queste due espressioni identico viceversa il secondo esempio qui p di f di x z e p di y a è unificabile perché io posso unificarlo sostituendo a y f di a a x a e a z a in questo caso entrambe le formule diventerebbero identiche e diventerebbero p di f di a virgola a quindi l'insieme sarebbe unificato però anche quest'altro è unificatore cioè se io vado a sottituire ad y f di x e a z a ho che entrambe le formule diventano identiche e diventano p di f di x a e quindi anche questo teta è un unificatore ma la differenza di sigma è più generale io infatti posso derivare sigma componendo teta con la sostituzione x che si dice ad x a se io prendo teta e compongo teta con la sostituzione che da x si dice a avrò che y questo qui diventa y sottinisce f di a z di a e poi ci devo aggiungere x di a che sarebbe sigma quindi sigma lo posso ottenere componendo teta con questa sostituzione in realtà qualunque altro sigma io lo posso comporre mediante un'altra sostituzione lo posso ottenere utilizzando un'altra sostituzione componendo teta con quest'altra sostituzione e quindi si può provare che teta è un mos genere unifier è un unifiatore più generale di sigma ora questo concetto qui si può algoritmizzare in questa maniera sia esso insieme finito di espressioni si individua la posizione di simbolo più a sinistra in cui non tutte le espressioni hanno lo stesso simbolo e si estrae da ognuna di esse la sottosepressione iniziante in quella posizione insieme di tutte queste sottosepressioni è detta insieme di disaccordo per esempio supponiamo di avere queste tre espressioni P di F di X H di Y A P di F di X Z A e P di F di X H di Y B che cosa facciamo? facciamo scorrere un ipotetico puntatore da sinistra verso adesso tutte e tre al primo posto punterebbe P P P e P è lo stesso simbolo sì andiamo oltre parentesi tonda aperta parentesi tonda aperta parentesi tonda aperta stesso simbolo sì andiamo oltre F F F sì andiamo oltre è lo stesso fino a questa parentesi tonda si va oltre poi anche la virgola si va oltre e poi qui abbiamo un puntatore il puntatore mi punta H qui mi punta Z e qui mi punta H qui a questo punto il simbolo non sarebbe diverso allora tutta la sottosepressione che parte con H quindi H di Y e quella che parte con Z quindi Z finisce lì e qui che parte con H H di Y coincide con questa quindi non lo stiamo a ripetere questo qui viene definito insieme di disaccordo fatta questa promessa abbiamo questo algoritmo di unificazione e funziona così partiamo con K uguale 0 sigma 0 uguale epsilon cioè la situazione di identità se applicando l'attuale sigma che all'inizio è sigma 0 ad S abbiamo che S si riduce a una sola espressione stop abbiamo trovato l'MGU che cercavamo ed è sigma K se non è così dobbiamo all'interno dell'insieme di disaccordo di K chiedo scusa all'interno all'insieme di espressioni S a cui viene applicato sigma K andare a cercare l'insieme di disaccordo del K esimo ciclo poi trovato l'insieme di disaccordo dobbiamo andare a vedere se all'interno dell'insieme di disaccordo esistono una V per esempio qui si strebbe una Z e un antermine tale che V è una variabile che non occorra nel termine che dovesse comparire sempre all'interno di disaccordo a questo punto abbiamo un nuovo sigma che sarebbe il vecchio sigma composto con questa soluzione la soluzione che a V sostrisce T si incrementa K e si torna al passo 2 e si torna al passo 2 questo se esistono V e T all'interno di K come abbiamo appena definito se all'interno di K non esistono una V non T di questo tipo allora ci dobbiamo fermare e l'algoritmo termina e dice che S non è unificabile in pratica quello che stiamo per vedere che abbiamo appena visto cioè su cui voi farete degli esercizi è un esempio di un algoritmo di unificazione in generale possiamo dire che il problema di trovare un unificatore di più espressioni è un problema decidibile cioè mediante algoritmi come quello che abbiamo appena visto si può sempre trovare un MGU di un insieme di espressioni se esiste e se invece l'MGU non esiste l'algoritmo termina e dice che l'MGU non esiste quindi il problema di trovare l'unificatore è totalmente decidibile attenzione ho già messo in rosso evidenzio che bisogna nell'applicazione dell'algoritmo di unificazione assolutamente accettarsi che non stiamo rimpiazzando una variabile con un termine che contenga la variabile stessa questo controllo si chiama occur check e ci torneremo quando faremo il prolog purtroppo è un check che i prolog e i quasi programmazione non fanno e che invece devono fare perché altrimenti il principio di soluzione che stiamo per vedere e che loro implementano non è corretto per assicurare che il principio di soluzione sia corretto bisognerebbe verificare questo il prolog non lo fa ma ci torneremo su questo concetto adesso stiamo cercando di andare verso la parte finale di questa unità didattica e quindi andiamo a vedere il principio di soluzione per clausole non ground prima vediamo che siamo risolvente binario se due o più letterali come stesso esempio il predicato di una clausola c possiedono un most generale unifier chiamiamo sigma chiamiamo fattore di c la clausola c sigma se c sigma è una clausola unitaria allora quella viene detta il fattore viene detto fattore unitario detto questo si hanno c1 e c2 due clausole genitrici che non abbiano variabili in comune questo l'abbiamo detto dobbiamo standardizzare a parte le variabili si hanno l1 e l2 due letterali che stanno rispettivamente in c1 e c2 se l1 e not l2 hanno un most generale unifier sigma la clausola c1 sigma meno l1 sigma unita e in disgiunzione con la clausola c2 sigma meno l2 sigma viene detta risolvente binario di c1 e c2 i due letterari l1 e l2 vengono detti letterari se tu si è risolto per esempio se abbiamo queste due formule due clausole p di x e q di x se niente e r di x se p di a io innanzitutto devo riluminare questa x e fate diventare a c2 r di y se p di a inizio tale che non abbiano variabili in comune dopodiché vado a cercare un letterale in c1 per esempio p di x qui che sia è un letterale in c2 per esempio questo not p di a tali che i due letterali a parte il simbolo di negazione tolto il simbolo di negazione da uno dei due abbiano un most generale unifare in questo caso si perché ad x posso sostituire a esistono i most generale unifare allora io posso costruire la clausola che parte dalla c1 a cui apri questo generale un most generale unifare e quindi alla x sostisco a e gli tolgo però il letterale su cui è stato risolto ci metto ci aggiungo l'altra causola c2 sempre composta con la mgu sigma e quindi se ci fosse una x ma non ci può essere qui l'unificatore di guardare sulla y non c'è e quindi la prendo tutur quindi che cosa succede però tolgo il letterale su cui è stato risolto quindi non c'è più questo letterale qui il risolvente è questo qui qa e ry se niente quindi qa e ry se niente deriva da c1 e c2 come risolvente e deriva anche logicamente perché il risolvente di soluzione dimostra essere una inferenza corretta questo risolvente binario più in generale possiamo enunciare il principio di completezza più in generale il risolvente di 2 clausola c1 c2 è uno dei seguenti 4 possibili risolventi binari un risolvente binario c1 c2 come abbiamo appena visto un risolvente binario c1 è di un fattore c2 oppure un risolvente binario di un fattore c1 e di c2 oppure un risolvente binario di un fattore di entrambe qui abbiamo l'esempio che vi esaminate con calma fermando questa registrazione e noi invece andiamo a enunciare il risultato più importante che provò Robinson è la completezza del principio di risoluzione dato l'insieme di clausole se questo insieme è soddisfacibile cioè non ha modelli allora esiste una deduzione della clausola vuota da esso cioè una rifutazione per esempio si mostri che gli angoli alterni formati nella diagonale di un trapezio sono uguali siano intesi nelle seguenti interpretazioni t xy uv è un trapezio p di x y uv vuol dire che il segmento xy è parallelo al segmento uv e di x y z uv w vuol dire che l'angolo x y z è uguale all'angolo uv z nella geometria ocrirea sono vari di queste azioni e cioè se ho un trapezio le due basi sono parallele se se ho due segmenti paralleli allora gli angoli alterni gli angoli formati dagli estremi di questi due segmenti così come sono stati indicati qui quindi ciò che il segmento xy è parallelo al segmento uv l'angolo xy v si esatto è uguale all'angolo uv y se vi fate un disegnino su un pezzo di carta potete verificare quello che stiamo dicendo io me lo sono fatto qui a parte e poi aggiungiamo la premessa che abbiamo un trapezio questa era l'ipotesi la premessa noi dobbiamo dimostrare che da a1 a2 a3 segue come conseguenza logica che l'angolo abd vabbè no la premessa chiedo scusa non era t di y uv ma era t di abc d ecco fate questa questa correzione nella premessa 3 a questo punto noi dobbiamo dimostrare che l'angolo formato da abc e l'angolo formato da l'angolo cdb sono identici ovvero che questa formula qui è una formula valida io non solo io veramente tutti indicano una formula valida anche in questa maniera dicendo che è conseguenza logica di qualunque cosa per rifotazione si può far così utilizzando la rega di robinson neghiamo la conclusione quindi la conclusione era e di a b c a b d c d b la neghiamo la aggiungiamo alle tre premesse e cerchiamo di derivare da queste il falso questa notazione qui sta per il falso e cioè di derivare la contraddizione di provare che da ciò il falso è conseguenza logica quindi tutto ciò rappresenta una contraddizione lo possiamo fare mediante la refutazione che abbiamo appena introdotto a tale scopo trasformiamo tutta questa congiunzione in questi insiemi di clausole questa che sarebbe la clausa che corrisponde ad uno la due che corrisponde la clausa la due che corrisponde sarebbe la clausa che corrisponde alla due la tre che è la clausa che corrisponde alla premessa del discorso ecco qui ho messo correttamente a b c d scusa anche qui rimpiazzate a x y a b c d dobbiamo dimostrare che no che cosa facciamo prendiamo la quello che vogliamo dimostrare e a b c d la neghiamo e negandola abbiamo questa clausola qui che è un goal definito proprio esattamente come fra il prologo è un goal definito a questo punto partiamo con la rifutazione da 2 e 4 produciamo questa clausola qui la 5 dalla 1 e dalla 5 produciamo questa clausola qui la 6 e dalla 3 e la 6 produciamo la clausola vuota quindi abbiamo provato anche un insieme di clausole in soddisfaciti e abbiamo provato quello che volevamo e cioè che gli angoli alterbi interni formati da una diagonale di un trapezio sono uguali una risoluzione una rifutazione si dice lineare se fa la scelta delle due clausole da risolvere ad ogni passo della rifutazione in questa maniera allora vediamo innanzitutto l'algoritmo generico per rifutare un insieme di clausole l'algoritmo in genere generico è questo qui abbiamo un insieme di clausole di partenza dobbiamo andare a vedere se dentro questo insieme di clausole c'è la clausola vuota se sì stop abbiamo provato che l'insieme di clausole è insoddisfacibile se non c'è la clausola vuota che cosa dobbiamo fare andiamo a scegliere dentro l'insieme di clausole due clausole che siano distinte ovviamente ma risolvibili cioè che è possibile risolvere come abbiamo appena visto trovatele queste due clausole quindi abbiamo una libertà di scelta due gradi di libertà di scelta perché noi dobbiamo scegliere due calcoliamo il risolvente e dopodiché prendiamo il risolvente e lo buttiamo dentro l'insieme di clausole e andiamo a vedere se c'è la clausola vuota al passo successivo se c'è la clausola vuota non c'era il passo precedente vuol dire che il risolvente che abbiamo calcolato e abbiamo buttato dentro è la clausola vuota ovviamente e andiamo avanti fino a quando non produciamo la clausola vuota se a un certo punto produciamo la clausola vuota abbiamo dimostrato che l'insieme di clausole di partenza è insoddisfacibile se a un certo punto succede che dentro l'insieme di clausole non ci sono più due clausole distinte risolvibili che non abbiamo già utilizzato ovviamente a un passo precedente che questo non ho scritto ma era scontato allora vuol dire che l'insieme di clausole di partenza non è insoddisfacibile ma questo sempre per la simile di esigenza della logica primologica potrebbe essere un caso che potrebbe non verificarsi mai viceversa se io trovo la clausola vuota ho provato che l'insieme di clausole di partenza è insoddisfacibile però attenzione abbiamo come ho messo in evidenza qui mettendolo in rosso due gradi di libertà nella scelta dell'insieme di clausole la strategia cosiddetta lineare consiste in questo nell'applicare questo algoritmo ma nello scegliere a parte la prima volta quando si parte dove c'è ancora un risolvente prendere dal passo 1 in poi come una delle due clausole da risolvere esattamente risolvente calcolata al passo precedente quindi una risoluzione o reputazione lineare di una clausola iniziale del c0 e di una certa clausola cn a partire da s è una risoluzione in cui il c con i più 1 è un risolvente quindi una delle due clausole da risolvere al passo 1 successivo è risolvente del passo precedente e l'altra clausola la b la clausola scusate clausola laterale o è una delle clausole di input cioè che offriano parte dell'insieme di clausole di partenza oppure è un risolvente calcolata dal passo precedente cioè in pratica si parte da una certa clausola e poi dopo si utilizza sempre il risolvente appena calcolato come una delle due clausole su cui risolvere in questo caso se la strategia che viene adottata all'interno di questo algoritmo è quello di prendere sempre come una delle due clausole di risolvere il risolvente calcolato al passo precedente la strategia si dice una strategia lineare sia questo vincolo per esempio vediamo un esempio questo è un insieme che abbiamo visto prima da qui abbiamo derivato la clausola vuota senza utilizzare una strategia lineare andate a rivedere vedete che non era lineare adesso facciamo la stessa cosa utilizzando una strategia lineare produciamo cioè una retitazione lineare semplicemente produciamo la 5 dalla 1 e la 2 la 6 dalla 5 e la 3 la 7 dalla 6 e dalla 4 e la 8 cioè la clausola vuota dalla 7 e dalla 5 vedete che il primo risolvente ho utilizzato due clausole che erano già parte dell'insieme di partenza nel secondo risolvente ho utilizzato il risolvente del passo precedente 5 nel terzo risolvente ho utilizzato il passo precedente cioè il 6 nel quarto risolvente ho utilizzato il risolvente del passo precedente il 7 quindi ho utilizzato una strategia lineare ma vedete che nel caso ultimo sono andato a risolvere il risolvente del passo precedente non con una clausola di input cioè che c'era già in un insieme di partenza ma con un risolvente a sua volta che accadda a un passo ulteriormente precedente questo ovviamente si può fare non si può fare se la disegniamo la risoluzione di input una input risoluzione è una risoluzione lineare nel quale una delle due clausole genitrici è risolvente il caso del passo precedente l'altra è per forza una delle clausole che facevano parte dell'insieme di partenza una input deduzione è una deduzione nella quale tutte le risoluzioni i passi di risoluzione sono le risoluzioni di input una input riflutazione è una input deduzione che si conclude con la clausola vuota ebbene la risoluzione di input non è una risoluzione completa se c'è una clausola in un insieme di insoddisfacibili di clausole S e S privata di questa clausola è soddisfacibile allora esisterà sempre una riflutazione lineare da S con clausola iniziale C questo è il principio di completezza della risoluzione lineare ma non necessariamente esisterà invece una riflutazione lineare di input per esempio se andiamo all'esempio precedente che è un esempio che abbiamo già visto due volte una volta con la risoluzione non lineare una volta con la risoluzione lineare beh diciamo che provatelo provateci da soli vedete che se imponete che la seconda clausola con cui risolvere sia una clausola di input non riuscite a provare l'insoddisfacibilità di questo insoddisfacibile proposizionale pur essendo insoddisfacibile questo significa che la input di risoluzione non è però qui abbiamo un controesempio che ve lo vedete con calma da soli che è esattamente l'esempio che abbiamo visto nel primo modulo avendoci applicato il sistema di riduzione formale F che invece lo stesso esempio avendolo tradotto in clausole in particolare la prova P1 la rendiamo mediante una input refutazione quindi la input refutazione è in grado di fare la stessa prova che abbiamo visto nella unità precedente P1 ve lo vedete con calma questo esempio ma in generale non è sempre in grado di provare l'insoddisfacibilità di un semicaus invece la risoluzione lineare di per sé sì la risoluzione lineare è completa la input risoluzione non è completa ma nonostante questa incompletezza la input risoluzione è molto anzi da il prologue implementa una input risoluzione quindi a questo punto si potrebbe dire il prologue non è completo vediamo nel prossimo modulo vedremo che anche il principio di risoluzione che anche il prologue è completo perché la input risoluzione se la applichiamo solo a clausole di ORN ecco da cui l'importanza della clausola di ORN è completa in pratica abbiamo visto in questo modulo le clausole di ORN però non abbiamo spiegato perché le abbiamo introdotte abbiamo visto adesso la input risoluzione abbiamo detto che non è completa adesso uniamo le due cose la input risoluzione viene molto utilizzata perché è molto efficiente non sarebbe completa ma se applicata solo a clausole di ORN torna a essere completa abbiamo con queste due affermazioni gettato le basi della programmazione logica e del prologue che cominceremo a vedere a partire dalla prossima unità dal prossimo modulo didattico